Si chiama Nicole, la piccola partorita da una profuga ucraina e accolta dallo stesso paese che diede ospitalità al papà dopo il disastro di Cernobil. Il servizio. È nata nella terra che ha accolto il suo papà quando, dopo il disastro di Cernobil, ancora bambino, arrivò in Puglia alla ricerca di aria pulita. La trovò a Biccari, paesino del Foggiano, che adesso, con le bombe che dilagnano l'Ucraina, è diventato rifugio di speranza per lei, per la sua mamma e il suo fratellino. È nata in Puglia la piccola Nicole, da mamma Oksana, che ha partorito nell'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo. Il suo papà, Andrei, è rimasto al fronte. Resto qui, ha detto al telefono, questa è la mia terra, questa è la mia gente. Chissà quando potrà conoscere la sua bimba, che è nata sana e forte. La piccola Nicole sta bene, è nata prematura di 36 settimane, più 4 giorni da taglio cesareo, pesa 3,140 kg, lunga 50 cm e niente, ora resterà da noi in osservazione qualche giorno per vedere come va, soprattutto perché è nata anche un po' prima e farà gli screening tipici, diciamo, che facciamo a tutti i neonati e speriamo di poterla dare al più presto alla mamma. Oksana, assieme a Luca di 3 anni e alla nonna, è scappata dall'Ucraina subito dopo l'inizio della guerra. La famiglia ha viaggiato per decine di ore in auto prima di raggiungere la Polonia, poi un volo, Varsavia-Roma. In Italia, pronti a prendersi cura di loro, c'erano gli amici di Biccari, gli stessi amici del papà della piccola Nicole. La nascita della bimba diventa così un messaggio di pace e di speranza. Quando la guerra è in furia, noi abbiamo dato luce a una nuova vita e questa nuova vita deve rappresentare per tutto il popolo ucraino un messaggio di speranza.